Passiamo adesso all'arrivo degli alieni. Il governo dopo la riunione straordinaria del consiglio dei ministri ha diramato una nota ufficiale per rassicurare la popolazione. Ancora non è stata comunicata la data precisa dell'arrivo in Italia, ma secondo il governo i marziani non rappresenterebbero alcun pericolo per la popolazione locale. Si invitano i cittadini a non fare scorta di cibo e di acqua. La nota prosegue sottolineando che per ora non sono previste interruzioni dei servizi primari, quale luce, gas ed acqua. Il Vaticano afferma che molto presto verranno resi pubblici i passi secretati della Bibbia che annunciavano l'avvenuta della civiltà extraterrestre. Ma vediamo come il previsto arrivo dei marziani sarà accolto nelle diverse parti del paese, dagli allestimenti e le feste a tema nelle discoteche del litorale adriatico, alla storica sfilata dell'Immacolata di Bibbiena che quest'anno ha visto la statua della Vergine accompagnata da modelli di astronavi scolpiti nel tipico tuffo locale. A Petralla una grande folla di fedeli si è dato appuntamento in piazza Santo Spirito, il parroco ha affrontato il tema dell'arrivo degli alieni assieme ai presenti, invitando a riflettere sul contenuto dell'enciclica papale Adventus Martianis. All'evento hanno partecipato circa 50.000 persone, un dato straordinario per un piccolo centro come Petralla.